allora ciao ragazzi e bentornati nel canale allora e dunque oggi voglio farvi recensione di un profumo e che ho anche accittato a festa dopo lo faccio vedere bene dunque io ultimamente soprattutto ultimamente sto ricercando profumi che siano low cost e che abbiano comunque delle caratteristiche nella loro piramide olfattiva che li può far avvicinare seppur vagamente seppur vagamente a profumi diciamo di più alta gamma cioè di nicchia o comunque commerciali che però siano molto più costosi quindi questo perché per camera piano momenti cioè nel senso io sto vedendo che ci stanno alcuni profumi che io ho pagato poco tra cui anche profumi in olio o altri profumi comunque in spray che poi magari ve recensirò più in là e piano piano che ad un prezzo molto basso effettivamente mi rendono anche di più rispetto ai profumi originali cioè non originali ma rispetto ai corrispettivi di nicchia più costosi quindi io quando me posso orientare su profumi di nicchia determinati profumi di nicchia perché non ne posso far meno perché mi piace quell'odore e perché per avere quel profumo devo spendere quei 90 100 110 euro e vabbè cioè sostizi e vabbè però quando so che posso evitare perché so che c'è un profumo che gli assomiglia ma posso pagare di meno è uno cioè un po di cervello lo fa poi una cosa soggettiva e in questo caso come è stato per l'amber musk come è stato per l'hud night di montale come è stato per tanti altri profumi e poi io ve li recensirò oggi di che cosa vi parlo allora vi parlo del hud al mukhabbar in relazione al white hud di montale allora innanzitutto saluto cinzia bizzo che lei praticamente mi ha detto insomma so che non ha particolarmente montale lei è molto carina come tantissime altre ragazze e ragazzi che mi scrivono e che mi scrivete qua sotto io vi saluto tutti davanti un abbraccio speriamo che state bene e diciamo lei mi ha detto l'ultimo commento insomma vabbè un altro montale comunque passerò se come un mostro per questo video avrà pensato oddio roba è un altro montale non se ne può più è vero io ce n'ho diversi di montale però perché perché so profumi che ho comprato molto dilazionati nel tempo e che erano semplici per me semplici da indossare semplici da mette comunque particolare rispetto agli altri dei commerciali e che mi facevano anche una buona performance quindi per me erano profumi abbastanza facili cioè ecco quindi per questo se ne ho parecchi e anche se ultimamente magari mi sto oriente su altro però oggi di che cosa vivarlo appunto è white hud questo qui è una travel size che ho ricevuto dal sito proprio di montale a pari dell'anno scorso quando ho fatto l'ordine devi fare un ordine di 150 euro lasciamo verde lasciamo verde devi fare un ordine da 150 euro e minimo e dal loro sito e poi te danno questa qui in omaggio tra l'altro vi dico no scusate per capire un attimo cioè tu devi comprare vabbè lasciamo verde poi fa polemiche comunque questi due allora questo qua è ud al mukhabar esiste anche la versione mukallat ud al mukhabar del brand rasasi quindi questo qua è del brand rasasi e si chiama ud al mukhabar l'altra versione si chiama mukallat ud al mukhabar e sono diversissimi l'altro che è col tappeto argentato dopo ve lo scrivo bene nella descrizione nell'info box l'altro col tappeto argentato è un po' una ciofega cioè nel senso è sa quasi di sudore cioè sa quasi di niente la petta io sai tanto è la petta vabbè qua tra uccelli chi mangiaro a pette fra un pochetto scappafone i coccodrilli qua dietro allora dunque questo qui non è invece come il suo collega col tappo argentato questo è molto molto meglio allora il mukallat ud al mukhabar è molto più secco ecco per quanto sta quasi di sudore cioè proprio acre è proprio un ud molto molto acre molto secco che a me non è piaciuto sinceramente troppo speziato troppo asciutto non fa per me invece questo qui e l'ho preso perché effettivamente avevo letto una piramide diversa rispetto al al mukallat e vera leggo la piramide alla piramide di questo è rosa zafferano muschio sandalo geranio favadonca paciuli bergamotto e violetta nonostante qua ci sia qualche nota tipo il paciuli tipo il geranio che possono renderlo un profumo piuttosto magari più secco più erbaceo eccetera questo è un profumo è molto diciamo quasi cremoso vorrei dire nel senso che allora che levo il tappo del del rose di sire gli avevo messo giusto per questo continuo un olfattivo ecco col col brand montale gli avevo messo questo questo è questa clip del rose di sire gliela levo stata resciata la cosa originale allora questo qui è un profumo che si sente molto lo zafferano quindi si sente molto lo zafferano in sì in combinazione con la rosa perché dico è quasi cremoso perché ce l'ha questa rotondità ce l'ha questa cremosità un po questo profumo sarà il muschio il paciuli ce lo sento molto poco si sente una rosa molto speziata si sente una rosa molto speziata ma c'è il muschio che va ad arrotondare tutto parecchio a bad dolcire ad arrotondare tutto parecchio io sì decisamente la nota predominante è sicuramente una rosa però ripeto non è una rosa appunto nitida è una rosa piuttosto offuscata da tutta questa componente speziata è una piramide piuttosto semplice però è la combinazione di queste note rosa zafferano muschio sandalo geranio paciuli e ambra ovviamente c'è anche l'ambra che addolcisce parecchio allora lo rende molto molto simile al white hood io me lo spuzzo di qua allora però poi tra l'altro vi dico anche un'altra cosa allora il white hood il white hood che cosa c'ha hood rosa vaniglia zafferano sandalo ambra labdano paciuli cardamomo vetive e gelsomino quindi una piramide che comunque va a diciamo condividere parecchie note tra queste due tra questi due profumi sono parecchie note in comune nel white hood ci si sente sicuramente di più la vaniglia quindi white hood apre leggermente più dolce però la componente speziata più o meno la stessa quindi questa questa nuvola di spezie che vi avvolge quando mettete questi due profumi è praticamente quella se devo fare un leggero diciamo l'unica grossa differenza che qui ci sento molto di più la vaniglia cioè qua la vaniglia ci si sente di più perché qui non c'è fondamentalmente qua c'è ciò che lo potrebbe rendere dolce qua c'è il l'ambra che altro c'è sta niente l'ambra soprattutto la fava tonca è così la fava tonca e l'ambra sono le uniche due note che possono un po addolcirlo arrodondarlo mentre invece qui c'è una buona dose di vaniglia allora che io che cosa vi posso dire adesso vi dico questa cosa allora tra i due profumi e questo qui è una nota di hood quindi voi direte come fa a essere uguale se qua c'è la rosa e l'hood qua l'hood non c'è vi dico che probabilmente quell'assemblamento delle note appunto rosa zafferano vetive sandano in questo qui vanno a replicare la diciamo l'accordo di hood che c'è in questo io perlomeno ce lo sento poi devi essere proprio un naso esperto di essere proprio un naso raffinato devi essere un professionista per capire bene le differenze però ci stanno e c'è profumi che comunque si sente che uno costa 15 17 euro l'altro costa 110 quindi è una pasta diversa una texture diversa per carità però però qui c'è però io ho una performance molto migliore da rasasi cioè allora a parte che a parte che il white hood di montale dopo un po diventa troppo hood sparisce la parte vanigliata sparisce la parte più dolce diventa troppo hood e sa quasi un po di air spray ma questa è una caratteristica un po dell'hood che troviamo anche in black hood non soltanto in questo però dopo un pochetto sa un po troppo di hood si dolce si speziato però comunque l'hood si comincia a sentire un po troppo questo è come se fosse l'anima di questo cioè lo sento così cioè come se in questa boccetta fosse proprio stata messa all'anima di questo profumo cioè questo profumo voleva essere questo no lo so però diciamo io l'ho interpretata così però perché dico questo perché un montale che cosa 110 euro che io me lo metto me lo spruzzo e dopo due ore non lo sento più tanto bene c'è un problema un ud al mukhabbar che io me lo metto e l'ho messo parecchio che io me lo metto e faccio 5 6 ore di lavoro prima di andare in pausa e la gente mi dice dio che scia che lasci beh c'è qualche differenza la differenza c'è sta è perché questo mi rimane sia sulla pelle che sui vestiti e lascia una scia cremosa questo lascia una scia cremosa di rosa zafferano muschio e ambra questo dopo un pochetto si sente un vago tono legnoso dolce tipo vagamente tipo vagamente shaka food tipo vagamente ma un po quel genere lì carichi speziati no zafferano cardamomo speziati in quel senso lì però è leggero cioè io non ce la sento la la crema il tono di crema la sfumatura cremosa che c'ha invece questo qui quindi tra i due profumi io mille volte ricomprerei il ud al mukhabbar me perdoni montale che io stimo come brand mi piace molto però no questo è assolutamente secondo me io lo non lo consiglio mi dispiace tantissimo però non è un profumo che a me mi rende parecchio ho visto anche su fraganti che alcune persone dicono che effettivamente whitewood non rende bene alcuni altri dicono durata eccelsa fida io guarda ho imparato questa cosa se su fraganti che ci stanno 10 recensioni e una una dice che profumo non dura una ceppa io mi vado a fidare di quella recensione perché tutti gli altri che dicono ti mi dura una vita mi dura un'eternità un anno su vestiti poi c'è sta quello che ti dice raga dopo un ora se sente io ultimamente ho capito che me do capità di quella recensione specifica in questo caso io d'oretta a quelle 10 20 recensioni che dicono su 150 che questo profumo se sente poco e io lo sento poco questo lo sento tantissimo cioè sarà il naso mio ti devo dire però quindi tra questi due io vi consiglio che spende tipo 100 euro di meno e vi prendete questo quindi se volete risparmiare 600 euro che aveva un profumo molto molto simile molto simile che condivide proprio un dna comune di diciamo di appunto di di anima di anima speziata cremosa vagamente dolciastra e io vi suggerisco questo piuttosto che questo io ho finito vi lascio il link di sotto per andare a prendere il udal mukhabbar e ci vediamo al prossimo video